Meno pesce e carne in tavola. A causa dell'aumento dei prezzi, un toscano su due ha dovuto rivedere la lista della spesa rinunciando ad alcuni degli alimenti fondamentali per una dieta bilanciata e variegata, come il pesce, 27%, e la carne, 26%. Più di uno su tre ha confessato a livello generale di aver messo meno prodotti alimentari nel carrello, il 34%, riduzioni più contenute per frutta e verdura, così come per il vino e altre bevande. A dirlo è col diretti Toscana sulla base dei risultati di un sondaggio online condotto sul proprio sito. Una tendenza al risparmio confermata dai dati dell'Istat relativi al commercio al dettaglio nei primi otto mesi del 2023 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, secondo cui il caro Prezzi ha tagliato del 4,5% le quantità di prodotti alimentari acquistate dagli italiani, che sono però costretti a spendere il 6,9% in più. Tradotto in soldoni per le famiglie della nostra regione, si tratta di un esborso aggiuntivo di 433 euro in più per acquistare pane, pasta, latte, verdura, formaggi e più in generale generi alimentari e bevande analcoliche. La situazione di difficoltà è resa evidente dal fatto che, sottolinea col diretti Toscana, volano gli acquisti del cibo low cost con i discount alimentari che fanno segnare un balzo del più 9,5% nel periodo gennaio-agosto, il più elevato tra gli scaffali del dettaglio. Un momento molto difficile anche per le imprese agricole, colpite dal maltempo che ha decimato i raccolti e dai bassi prezzi, che in molti casi non coprono neanche i costi di produzione, con il rischio dell'abbandono di interi territori. Ma a pesare sono anche i costi della logistica, spinti dal caro carburante, che nel caso della frutta e verdura arrivano a incidere per circa un terzo del totale.